Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, stiamo registrando Minecraft su una mappa horror. Prendiamo queste videocamere e ci sentiremo meglio. Dobbiamo azionare una videocamera così possiamo registrare tutto. Quando c'è niente nella classe, controlliamo tutte le casse. Questa mappa fa veramente horror, è veramente troppo. Andiamo. Questi quadri. C'è il sangue. È aperta. La bocca. Ok. Adesso abbiamo i cestini. Oh. Medicina. Ecco. Ci stanno le medicine. Prendiamole tutte. Adesso ne abbiamo cinque. Ragazzi. Ok. Andiamo. Andiamo in questa stanza. Cos'era. Scontrolliamo tutti i bagni. Ehm. Va bene. Non importa. Dobbiamo trovare quelle cose. Dobbiamo trovare quelle cose. Non so leggere. Eh vabbè. Non so leggere. Ok. Medicina. Mi sugar box. Ancora medicina. No. Medicina. Ma quante medicina sono. Ok. Già. Ci deve essere qualcosa da qualche parte. Questa stanza è aperta. Questa stanza è aperta. È chiusa. Qualche stanza aperta. Niente. Niente. Cos'è che dobbiamo fare? Non entrare nei quadri. No. Qua c'è. Aspetta. No. Aspetta. No. Ecco. Laborato. La chiave del laboratorio. Ho trovato. Ok. Prendiamola in mano. E andiamo a. Metterla. Nel laboratorio. Sicuramente. Sponderà qualcosa. Grazie. Ho paura. Eccolo. Laboratorio. Chi era quello? Mamma mia. Ecco. Micina. Ma quanta medicina. Prendo tutto. Ho troppa paura. Sto tremando. Qua c'è qualcos'altro. Dai. Qualcos'altro ci deve essere. Pulsati. Sto. Sì. Per sicurezza. Anche questo. Guarda. Andiamo. Ragazzi. Che paura. Ragazzi. Ho tanta paura. Dai videocamera. Ecco. Abbiamo acceso la videocamera. Camera. Ok. Andiamo. Cosa facciamo. Paura. Che ho deciso di fare questa mappa. Non si aprile questa porta. Perché. Sai. Dove devo andare? Cioè. Non lo so. Non so cosa fare. Se si è aperto questa porta. No. Andiamo. Qua. E il vino. Paura. Paura. Andiamo qua. Cosa c'è qua. C'è qualcos'altro. Dai. Ci devo. Che faccio. Proviamo una piccola. Cosa c'è qua. Nel bagno ho trovato qualcosa. Il succo. No. Non si sbagliò. Ho dipinto. No. Doveva essere un altro modo. Solo il petto. No. No. Vabbè facciamo così. No. Non c'è stato un calcolo forse qua c'è qualcosa altro questo che è? il nostro corso gratuito dobbiamo fare ma migliora un po' questa porta stanza 17 non c'era niente perché l'ho rotta allora ci mettiamo così no perché l'ho fatto rompiamo la stanza rompiamo la stanza 13 ci deve essere qualcosa di interessante qua ok andiamo rotta ma perché mi spiegate perché non c'è niente ok adesso rompiamo un'altra porta questo immaginate qua rompo e non c'è niente ok ok ecco piano di sotto però non ho visto ancora la stanza 14 dobbiamo assolutamente vedere ma la vedremo adesso ok mi spaventano questi suoni perché ci hanno giunti chiave cosa non ho aperto ok ok ragazzi direi che possiamo concludere qui se vi è piaciuto il video lasciate un piace e iscrivetevi al mio canale se volete se volete la parte 2 raggiungiamo i 40 iscritti faccio la parte 2 e aspettate finisco così così ecco così finisco e ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi ciao